Buonasera, siamo qui con Carmine Petta, migliore in campo nella partita tra Blue Island e FF79, purtroppo persa 5 a 4 dai Blue Island e nonostante tutto Petta autore di due gol e quindi migliore in campo. Allora Petta, parlaci un po' di questa sconfitta, venuta poi in modo carambolisco. Sì, infatti è stato un po' uno schifo per noi, visto che stavamo vincendo per 3-0 al primo tempo. Abbiamo giocato molto bene al primo tempo, non abbiamo fatto capire niente, invece poi il secondo si è ribaltato tutto. Ho capito, senti, dopo questa battuta d'arresto, quali sono ridimensionati i vostri obiettivi? No, sono sempre gli stessi vincere. Sempre gli stessi vincere e cercherete quindi di portare a casa la vittoria nel prossimo turno, immagino. Ho capito, senti, vuoi dedicarmi se non la vittoria a questi due gol a qualcuno? No, non lo vuoi dedicarmi a nessuno, riesco a fare i nomi. Va bene, allora ciao Carmine, chi vuol capire capisca, eh. Ciao.